Buongiorno, buongiorno al dottor Claudio Sarascino da Benessere Ipnosi Soluzione, l'ipnosi di CS vera e professionale con la V maiuscola. Oggi rispondo ad un signore di Parigi che mi scrive, dottore, io leggo un sacco di libri, faccio un sacco di corsi, ho avuto dei leggeri miglioramenti, ma sono sempre lì, passo di corso in corso, di libro in libro, non riesco a capire il perché. I miei limiti sono sempre gli stessi, il perché non riesca ad uscirmene da ciò che mi impedisce di vivere veramente, non capisco il perché non riesco a raggiungere i miei obiettivi, non riesco a capire perché non ho successo. Io gli ho risposto, se tu hai seguito i miei video fino ad oggi capirai che non serve a nulla fare, leggere tantissimi libri, fare tantissimi corsi, andare in palestra dalla mattina alla sera, se tu non convinci il tuo subcosciente, il tuo pilota automatico, tutto sarà inutile e tu cadrai nelle acque, come San Pietro. Perché? Perché il dubbio, la critica, il mettere in dubbio ciò che fai è la cosa più peccaminosa, tra virgolette, della terra. Significa che finché non convinci il tuo pilota automatico, il tuo subcosciente, che vuoi veramente raggiungere quell'obiettivo, hai voglia a dire montagna, spostati, la montagna non si sposterà mai, mai, mai. E come fare, dottore, per convincere il mio subcosciente, il mio pilota automatico, la mia mente profonda, il genio della mia lampada di Aladino, a fare ciò che io voglio con la mia volontà, il famoso io, io, io di Freud, che non ha capito mai nessuno, però te lo dico io quando diciamo io voglio, io desidero, io agisco. Ma poi c'è una forza più grande dell'io che è la tua immaginazione, il tuo subconscio, le tue sensazioni, le tue emozioni che ti bloccano, ti paralizzano. Ok? Ora, come fare per uscirsene? È semplice, educare, convincere, o alcuni guru dicono programmare il tuo subcosciente ad eliminare tutto ciò che ti impedisce di far arrivare la freccettina al centro del tuo tirassegno, del tuo bersaglio. Anche con un solo audio MP3 di CS che può fare per te, o anche per il tuo caro che non vuole essere aiutato o che non può essere aiutato, perché l'ipnosi di CS funziona anche per chi non ti dà il suo permesso, la sua autorizzazione, la sua volontà, o ne partecipa e ne vuole impegnarsi. ragazzi, bambini, adulti, anziani, è l'unico metodo di CS unico al mondo e lo dico non con vanto, ma più che vantarmi, perché le ho provate tutte ragazzi. Non credere a nessuna parola del sottoscritto, se non vuoi scaricarti un audio MP3 di CS che fa per te oppure per il tuo caro, siccome ho sospeso al momento le mie sessioni online di ipnosi di CS vera professionale con la V maiuscola, ti invito ad andare presso un professionista dell'ipnosi vera professionale della tua zona, della tua città, del tuo paese e iniziare, perché funziona, funziona, funziona. È importante che questo specialista, pur non utilizzando il metodo di CS, sia una persona seria, accreditata e soprattutto specializzata nel tuo problema, perché altrimenti spenderai soldi ad Mincham. Visita il mio sito internet www.ipnosi.com, aspetto i tuoi commenti, le tue domande, non ti vergognare, scrivimi, dammi energia per continuare a diffondere questo metodo di CS unico al mondo. Visita la mia fanpage su Facebook, ipnosi, audio ipnosi del dottor Claudio Saracino, iscriviti per favore a questo canale YouTube, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino e fa share, condividi con amici e parenti perché può essere quel quid o quella molla che gli può cambiare la vita. Seguimi anche sugli altri social, Instagram e Twitter, benessere ipnosi, soluzioni di CS del dottor Claudio Saracino, un bacio e un abbraccio e credi in te stesso, in te stesso, ciao.